trained gut, ovvero allena l'intestino. Tutti si concentrano su allenare le gambe, la testa, il cuore, ma nessuno allena mai l'intestino. Cosa intendi? Questo è un aspetto chiave. Benvenuti in Cotto Talk. Oggi parliamo di integrazione per il runner, un argomento che secondo me è molto interessante, proprio perché all'inizio quando ho cominciato a correre, mi concentravo solo su allenamenti di corsa e alimentazione e snobbavo un po' l'integrazione. Proprio per questo motivo ho deciso di parlarne oggi con il mio amico Eugenio di In Casa Di. Ciao Eugenio e benvenuto. Eugenio è un farmacista, oltre a avere una pagina social che si chiama In Casa Di, dove parlate di integrazione e quant'altro. L'integrazione per il runner. Il mio primo errore che faceva all'inizio era di mi concentro solo sulla corsa, gli allenamenti, cosa mangiare. L'integrazione per me era la settimana prima della gara, quindi nel mio caso una maratona, ti chiamavo, cosa devo prendere questa settimana, il carboload, come lo faccio, o per la gara stessa. È corretto, è sufficiente o ci vuole qualcosa in più? Diciamo che il grande errore che sta dietro colui che corre è molto spesso l'approssimazione. Il grande vantaggio della corsa è che vado a comprare un paio di scarpe, me le metto, mi allaccio e comincio a correre. Quindi diciamo questo porta a un insieme di errori, tra cui c'è proprio quello della gestione anche dell'integrazione. Come sappiamo c'è l'allenamento, c'è l'alimentazione che sono i due capi saldi e poi diciamo che c'è un terzo aspetto da considerare, che è appunto quello dell'integrazione. Molto spesso il runner viene in farmacia e, come facevi tu, si sfrega le mani. Ho la gara. Ascolta, c'ho la gara tra tre giorni, che cosa mi dai? E io molto spesso mi trovo in difficoltà, tant'è che a molti dico, guarda, torna alla prossima, perché a questo giro non riesco ad aiutarti in nessun modo. Questo perché l'integrazione, come gli altri aspetti che abbiamo menzionato prima, vanno in un certo qual modo costruiti nel tempo e si parte sempre da un aspetto, quello che è il nostro obiettivo. Decido di fare, di scrivermi a una mezza maratona, la voglio fare per ridere, per stare con i miei amici o perché voglio farla entro un certo tempo. Faccio una maratona entro le tre ore e chiaramente devo fare delle cose che sono diverse rispetto a quelle che se la voglio fare insieme. Sia per gli allenamenti, che a volte anche per le rinunce, che a volte anche per tanti altri aspetti. A me piace moltissimo la vitamina N, che non è un integratore, ma è quello che dice Kepchoge, che è la vitamina No. Quindi se voglio ottenere certi obiettivi, devo poi anche imparare a far certe rinunce. Ti faccio una domanda. Quanto hai detto devo cominciare prima? Quanto prima? Cioè se io mi iscrivo a, mettiamo, una maratona fra quattro mesi, quanto tempo prima o sei mesi devo cominciare a cominciare il mio percorso di integrazione? Diciamo che l'integrazione è un percorso perché dobbiamo pensare che ci sono varie fasi. C'è una fase che precede l'attività fisica, c'è una fase che invece si sviluppa durante l'esercizio fisico, durante la gara e poi c'è una fase che invece è il termine, quella che, diciamo, il cosiddetto recupero, e sono tutte importanti. Quindi è chiaro che per essere efficienti nello sviluppare e ne raggiungere un determinato obiettivo, devo costruirle nel tempo. Quindi non posso pensare le due settimane prima di impostare questo schema di integrazione. E c'è una di queste tre fasi che ritieni più importante delle altre? Cioè mi verrebbe da pensare, più importante secondo te è il pre o il durante? Cioè se io ho integrato molto bene nei mesi precedenti la gara, a volte possono essere quasi più importanti che integrare bene durante? Allora, molto dipende anche dalla distanza. C'è chiaro che gestire una mezza maratona è più facile che gestire una maratona piuttosto che una 100 km. Adesso stiamo sconfinando nel mondo delle distanze ultra, quindi è chiaro che per esempio in quelle distanze lì fa molto la differenza cosa vado a mangiare durante, perché sono gare che sto sulle gambe per tante ore, per cui come mi alimento durante è fondamentale. Quindi diciamo che, torno sempre lì, dipende dall'obiettivo, dipende da quale tipo di gara, dipende da cosa sto facendo, quale di queste fasi è più importante dell'alpha. Quindi va sempre rapportato qualsiasi cosa al tipo di gara, al tipo di nostro obiettivo, come hai detto. Certo, è chiaro che un aspetto sul quale io pongo grande attenzione è il recupero. Cioè se io do il mio corpo in maniera tempestiva tutto quello che gli serve per recuperare, chiaramente se io recupero in maniera efficace, all'indomani mi allenerò meglio. Ma è anche un po' il nuovo trend che c'è nel campo sportivo in generale, cioè riuscire ad andare ad accorciare i tempi di recupero, che è un po' la differenza che c'è tra i supersportivi e diciamo noi sportivi amatoriali, cioè quello di riuscire a ridurre i tempi di recupero. Molti lo fanno con i massaggi, lo fanno con la crioterapia, con altre cose e anche con l'integrazione. Certo, quello che molto spesso poi fa la differenza tra atleti di, passami il termine, basso livello ad atleti super evoluti, molto spesso proprio la capacità che hanno di recupero, anche di recupero dagli infortuni. Molte volte ci studiamo come atleti evoluti riescono a recuperare dagli infortuni. Da un crociato magari anche in pochissimo tempo rispetto a… Esatto, dopo lì gli aspetti da valutare chiaramente sono tanti, però ecco se io mi avvicino all'allenamento sempre al massimo delle mie forze, è chiaro che questo mi porta ad allenarmi meglio e quindi poi a migliorare. Quindi è un aspetto davvero cruciale, così come l'altro trend che poi è figlio del recupero è considerare un'adeguata idratazione. Cioè un atleta se è adeguatamente idratato nel tempo chiaramente performerà meglio. Ho una domanda da farti che voglio ricollegarmi, è una frase che ti ho sentito dire una volta, che tutti pensiamo sempre ad allenarci, no? Allenamento, allenamento, allenamento delle gambe, della testa. Tu invece mi hai introdotto un altro concetto che è trained gut, ovvero allena l'intestino. Tutti si concentrano su allenare le gambe, la testa, il cuore, ma nessuno allena mai l'intestino. Cosa intendi? Questo è un aspetto chiave, nel senso che si ricollega anche a quello che dicevamo prima, cioè quanto prima devo partire. C'è un aspetto fondamentale, soprattutto quando parliamo di queste distanze, parliamo della maratona, cioè io devo dare durante l'attività del carburante al mio corpo per performare. Io la chiamo la base per la sopravvivenza dello sportivo, i cosiddetti carboidrati durante l'attività. È chiaro che questo assorbimento di nutrienti passa attraverso l'intestino, che quindi possiamo definirlo l'organo chiave. È chiaro che per abituare il nostro intestino ad alimentarsi sotto sforzo, quindi con delle altre frequenze cardiache rispetto a quella a cui siamo adesso. Se adesso qui prendiamo delle noccioline e ce le mangiamo, non abbiamo problemi a digerirle. Diverso è se sono sotto sforzo, quindi è chiaro che per abituare il mio intestino ad alimentarsi durante l'attività lo dovrò allenare, lo dovrò testare. È un po' anche il concetto che si dice sempre di provare un gel durante gli allenamenti, mai arrivare con un gel, indipendentemente dal fatto che sia nuovo o meno, ma se uno non prende mai i gel in allenamento non può poi andare in gara e prenderlo. Esatto, così come io saprò per tempo quali scarpe utilizzerò in gara, allo stesso modo io per tempo dovrò sapere qual è il mio schema di integrazione dura, perché l'avrò provato e non sarà più oggetto di esperimenti a ridosso della gara, ma dovrò partire. Io lo faccio anche con la colazione, cioè la colazione che utilizzerò la mattina della gara la provo sempre prima, non so, dei miei lunghi, la maglietta, il pantaloncino, il calzetto, cioè su me ogni cosa deve essere provata prima della gara, stessa cosa anche per l'integrazione. Per esempio anche l'orario, cioè io so che dovrò fare una gara alla sera, dovrò magari fare dei tentativi ad allenarmi in quella fascia oraria, perché allo stesso modo imposterò diciamo le mie abitudini alimentari, quindi il pasto per gara non sarà più la colazione, ma magari è un pranzo, merenda, quindi sono tutte cose che vanno costruite nel tempo proprio per adattare l'organismo allo sforzo in quelle condizioni. E visto che siamo in argomento proprio del mangiare durante la gara, tutti tendono a mangiare il gel durante la gara, quanti? Perché c'è anche qua, c'è chi ne mangia tantissimi, c'è chi ne mangia pochi, c'è una grammatura, perché alla fine poi uno dice quanti gel mangi, beh dipende da quanti grammi di carboidrati ha ogni gel che uno va a prendere, quanti grammi di carboidrati per ora devono essere assunti durante la gara, dipendente che sia una gara da 10 chilometri o da 42. Ecco, una cosa da dire è che la cosiddetta sport nutrition sta evolvendo, cioè anno dopo anno si scoprono sempre nuove cose, abbiamo strumenti all'avanguardia per nutrire, per supportare il nostro atleta in maniera sempre più adeguata e precisa e uno di questi sono appunto i gel a base di maltodestrine che tanto sono commerciati, che ormai qual è il runner che non utilizza, abbiamo un po' superato l'era dei datteri, della frutta secca, è chiaro che anche qui quello che fa la differenza, cioè sul quanto devo mangiare per ora di attività lo fa la distanza, quindi diciamo che se vogliamo parlare di maratona e vogliamo dare un riferimento, 60 grammi di carboidrati per ora di attività potrebbe essere un punto di partenza, non voglio dire di arrivo perché per alcuni runner diciamo anche di più c'è margine per fare meglio, però diciamo che per uno che si approccia al mondo della corsa e vuole fare la maratona questo può essere un valore di riferimento. L'importante è dire che ci sono delle tecnologie sempre più avanzate all'interno di questi gel a base di maltodestrine che permettono l'utilizzo per esempio di due zuccheri, da una parte il glucosio e dall'altra il fruttosio. Questi due zuccheri utilizzano due diversi canali per essere assorbiti dal nostro corpo e quindi questo ci permette anche di aumentare la quota di carboidrati per ora di attività. Però è chiaro che necessitiamo di un professionista a cui devo appoggiarci. Domanda per chi si approccia e invece per chi già corre. Starter pack dell'integrazione per il runner e siamo invece per il runner un pochino più avanzato che vuole aggiungere degli optional a questo starter pack. Allora diciamo che anche qui torno a parlare di sopravvivenza cioè tra virgolette chiaramente. Quindi un runner che si approccia al mondo della corsa non può prescindere da una quota di amminoacidi essenziali da prendere magari al termine dell'allenamento che ci servono per recuperare quindi per riparare quei danni che fisiologicamente l'attività fisica e quindi la corsa genera per esempio a livello muscolare così come un'attenzione all'idratazione. Idratazione non vuol dire solamente acqua ma vuol dire magari acqua addizionata di tutti quei sali minerali che definiamo elettroliti con un termine un po' più tecnico che vengono persi con il sudore che chiaramente dobbiamo reintegrare. Un'attenzione particolare al sodio che è uno dei minerali più importanti perché quello che più viene perso con il sudore ed è coinvolto in tanti processi. Quindi questo è veramente un atleta idratato e un atleta che andrà più forte. Quindi questi diciamo sono i due aspetti cardine per chi deve iniziare. Lo starter pack. Dopodiché vorrei un optional. Dopodiché ci sono gli optional per i runner evoluti come te quindi che già qualche anno che quindi vogliono progredire. Allora possiamo parlare del succo di barbabietola che ce l'ho qua che questo ormai per me è diventato base. Un must per una fonte di nitrati organici che fondamentalmente provocano una vasodilatazione a livello del nostro corpo quindi ci permettono di portare più nutrienti ai nostri muscoli quindi andare più forte. Ecco detta è da prendere prima dell'attività. Possiamo parlare della caffeina molto utile in tutti gli sport di resistenza e poi la tanto chiacchierata creatina può essere utile in determinate fasi dell'anno. In modo cronico come ci hai insegnato a prendere no? C'è più che... Magari può stare con dei cicli. Con dei cicli in quel senso. Però ecco con dei dosaggi che magari sono variabili a seconda del nostro obiettivo ancora una volta. Precappone finale ti chiedo un messaggio che vuoi mandare più importante per l'integrazione del runner. Allora il mio messaggio e torno all'inizio come in tutte le cose dobbiamo porci sempre un obiettivo quindi decido di mettermi a correre quindi vado sicuramente a comprare le scarpe mi alleno cerco di mangiare bene e anche per l'integrazione devo darmi delle regole cioè devo inserire come abbiamo visto qualcosa di base all'inizio e poi magari vado aggiungere i dettagli. Fatemi sempre proseguire nel senso cerchiamo di limitare il fai da te quanto più possibile e ancora una volta se vogliamo essere performanti soprattutto nel giorno della gara o del nostro appuntamento che può anche essere la corsa i 20 chilometri della domenica con gli amici cerchiamo di allenare il nostro corpo ad alimentarsi ed idratarsi sotto sforzo questo non si fa solo i tre giorni prima della gara ma si costruisce nei mesi prima. Un'altra cosa che vorrei aggiungere è non fidarsi o basarsi solo sul lo fa il mio amico ho sentito dire perché soprattutto negli sport di resistenza dopo chi dovesse fare maratone è sui piccoli dettagli che si vanno poi a costruire le performance per cui non facciamo le cose a caso ma veramente cerchiamo qualcuno che ci possa guidare perché non è facile io all'inizio facevo fatica poi ho cominciato a farmi seguire da te e ho trovato grossi miglioramenti quindi questo è la mia il mio piccolo consiglio finale lascio con la mia solita frasina finale correndo misuro la strada e misuro me stesso alla prossima possiamo poterlo. Grazie a tutti.